Intanto faccio l'hospite d'onore. Allora. 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 Plim. My team are online. Chi è? Vado al dottore con Gimbert. Cosa vuoi? Bene, chi è? Io non vado al dottore. Allora, adesso. Benvenuti. Allora. Sono Mighty Mars. Andiamo tutti al dottore oggi. Allora. Siamo qui a World of Tank oggi. Se non salta tutto per aria come al solito, speriamo di no. Siamo col mitico Alessandro il cazzaro dei videogiochi. Bella a tutti. Sono con Mighty Mars il migliore al mondo. Questa non è la sua vera voce in realtà. È fittizia. E oggi quindi andate a vedere anche il suo canale. Ve lo dico subito. sia su Twitch che su YouTube. Che lui adesso ritornerà fuori live. Me l'ha detto in segreto. In segreto. Era un segreto. Era un segreto. Ecco. Lo scoop. Mannaggia. Coop. Da farsi venire lo scoop. E oggi proviamo. Siccome lui World of Tank l'aveva giocato un po' di tempo fa. Qualche anno fa. Era tanto che non entrava. Giusto? Bravo. Quanto tempo fa? 2012. Quando è uscito. Prima di me allora. Sì. Ha giocato su un amico. Dopo. Appena uscito. Dopo. Basta. Ero ancora un fanciullo. Un fanciullo. Sì. Ero un giovine. E quindi diciamo che oggi insomma l'ho un po' gli ho detto dai facciamo qualche partita insieme. Lui insomma ha detto alla fine ha desistito è venuto perché la Sondi insiste non gliela faceva più. E insomma ha detto riprova vediamo un po' se gli torna la voglia se gli piace perché dopo tanto insomma sono cambiate tante cosette. Quindi andiamo con che livello partiamo? Ah fai una cosa facile. Te che livelli hai? Allora adesso ho il M2 livello 3 ad esempio se no tutti i livelli 2 1 2 3 1 2 Allora andiamo con andiamo facciamo con il livellino trovando il livello 3 qua Devo fare pronto su conferma sì Sì Allora l'M2 che è americano è il più alto che ho io ho questo che è un premium che me l'ha regalato il gioco se no prendo un altro no no è tanto uguale più debole no il problema per me è il livello basso non è perché sono grosso andiamo qui 3 vai così almeno non abbiamo pensieri parole parole allora te li uccidi tutti io ti guardo quelli uccidi questa è la scuola no io invece solitamente faccio tutti gli altri fanno fanno le robe io arrivo all'ultimo dove sei? non ti vedo allora te dovresti essere sei dietro di me vedi che siamo colorati adesso ho visto il colore è diverso adesso sparano prima gli altri allora qui dovevo andare destra o sinistra andiamo destra così e dov'è la destra scusa e dov'è la destra dai facciamo io ti seguo sono dietro come mi sei vengo di qua tanto si dice o di qua o di là non esiste la destra la sinistra destra rispetto al punto di partenza questa è questa e questa è di qua poi c'è l'il di là e l'al di là andiamo nell'aldilà o nell'aldilà l'al di là ben un po' si fu vede che non ci segue nessuno perchè sanno già cosa succede visto un colpo partire se non paio su accanto a noi ma quanto vai a 60 all'ora te? 54 oh no ecco eh c'è il turbo io mi apro il pinco qua c'è qualcuno non c'è qualcuno coprimi le spalle le spalle le spalle le spalle 2 2 2 102 attenzione e che palle il matilda non si buca il matilda perché il matilda è corazzato che sei in tutto questo sono morto ecco da matilda la matilda è corazzata bisogna rusharlo nel mare del matilda e gli altri lo bucano però adesso li vedevano meglio ma anche quello fai fatica no merda perché mi son fermato e da quello già rovesciato lo tiro a dritto infatti mi sa che mi ha preso forse il mio dietro non so ho visto un sorry allora può essere usciamo? si però sei stato scemo io perché mi son fermato a prendere quell'altra è che fa troppo gola ce n'era una rovesciato mi son fermato a farlo fuori dicevo tirà dritto poi fuori prima quello lì per andare indietro al limite no vabbè che veicolo in battaglia non posso usarlo adesso hanno cambiato ancora allora te adesso cos'hai un 2 vuoi un 2 ho il ma io 2 non ne ho però dico te hai un livello 2 se non hai il 3 si ho il 2 più basso io ho il 2 di 2 non ho niente ho il minimo che ho il 3 vabbè uso il 3 ma ce n'hai un 3 no ne ho uno solo di 3 solo quello forse mi aspetta che finisca la battaglia praticamente se no prendi un 2 e io vengo con un 3 prendo un 2 si tanto no tanto ho solo quello 2 non è che ne abbia tanti veicolo non adattano che è successo che veicolo è no non posso non me lo dà che veicolo è che non te lo dà non me lo dà il veicolo senza cinghle l'1 si mi dà l'1 il 2 perché c'è l'altro ancora in battaglia perché è lo stesso modello allora io l'unico ho il 3 ma no non ho roba più bassa niente non posso stato escluso niente non posso perché te fai da padrone bisogna avere lo stesso veicolo no ma in realtà non ho bisogno dello stesso veicolo lo stesso livello ma non è che mi ricordo non era così perché se io metto questo te non ce l'hai tipo pronto metterlo 2 eh questo è un 1 un 1 te ti mette un 3 giusto un po' si lo metto eh no butta butta fuori è stata esclusa perché il suo livello non corrisponde a quello del veicolo del comandante seleziona un veicolo dello stesso livello eh una volta non era così eh no una volta potevi mettere massimo sì perché mi ricordo che con l'artiglieria siccome ti manda più alto l'artiglieria perché sicuramente l'artiglieria non so se l'hai mai giocata sì qualche volta l'ho provato ti mandavo un livello più difficile perché perché è troppo semplice se no sì e quindi magari chi entrava in battaglia con te cosa faceva te mettevi la tiglieria per esempio 8 e lui metteva un 10 capito sì faceva ti alzava di due livelli tipo più o meno anche volendo se uno per lì mette un 7 e quell'altro mette un 6 ci sta perché comunque ti butta sempre tra i 7 e tra gli 8 ma qui invece adesso l'hanno cambiato hanno messo che deve essere di livello pari ma questa è nuova lo sapevo il gruppo quindi io con l'account questo basso ma è un altro di account no non ce l'ho più ma è passato tanto tempo ma io guarda che sono stato quasi due anni senza giocarci sì sì no ma io non mi ricordo neanche più la password la roba non mi ricordo neanche il nome che avevo messo perché non mettevo i nomi cosa avevi in quello avevo ero a livello 8 più o meno quasi tutti i carri però c'erano solo quelle non c'era tutto c'erano americani inglesi e russi mi sembra non c'erano tanti capito però a livello 8 è già livello buono perché il massimo è 10 sì ma tipo avevo quelli veloci che avevo che facevano anche danni alti tipo all'epoca perché non li avevano tanto come si chiama non li avevano non avevano le linee via sì cioè non sono tre linee erano diversi e in più avevi come si chiama erano erano molto OP overpower certi anche quelli veloci tipo facevano danni dai 750 agli 800 900 quelli da quelli veloci però sei dei livelli 8 se tu riuscissi a recuperare la vai a recuperarla devo ricordare password robe e tutto ma anche ma se invece per email perché volendo se te non ti ricordi la password la puoi cambiare credo sì no e devo ricordarmi quale mail ho fatto perché non è l'email che ho adesso ne ho altre ne ho fatte talmente tante devo cercare devo un po' cercare negli appunti che lascio in giro ma cavità vabbè sei rientrati comunque cioè l'abbiamo persa credo sì si confitta e nonostante tutto ho fatto quanto 254 di danni vabbè bravo io non ho fatto niente sono bravo allora io riprendo questa anche perché sennò c'ho di tre c'ho lui e poi c'ho vabbè c'ho anche questo tedesco che una volta questa era forte perché questo è smitraglia e una volta era forte sì con un caricatore pieno facevi fuori uno completamente ma dopo li hanno nerfati quindi tanti sono stati nerfati tipo c'era una volta un artigliere russo che te se ne avevi due cararmati vicini riescivi anche quasi a farne fuori uno lo facevi fuori sicuramente l'altro tre quarti buttavi giù la vita ma l'artiglieri ascolti io ho cominciato nel 2013 avevo solo artiglieria perché a me mi abbiamo casinato io io facevo l'artiglieria francese l'artiglieria tedesca l'artiglieria americana l'artiglieria russa io sono partito non facevo quella inglese poi tutte le altre le facevo e facevo solo artiglieria poi cosa è successo ne prendevi due in un colpo caricavi in poco tempo facevi in tantissimo danno il tempo di caricamento non era così lungo e ti divertivi un casino poi l'anno nerfate e basta e l'ho venduto quasi tutto ce n'ho più due ma l'anno nerfate pesantemente perché hanno raddoppiato i tempi di ricarica ha dimezzato il danno tutto ha allungato anche le partite sono più lunghe le partite no quello non mi sembra più o meno sui 15 minuti 20 minuti massa poi dipende ci sono quelle che sono aggressive e finiscono subito poi ci sono quelle magari un po' più di style ma più che altro hanno cambiato tutta la grafica delle mappe se ci hai fatto caso e a me non ci capisco più niente io una volta ho tutti i miei punterelli per fare cose è dopo uno si è tutto cambiato graficamente poi più o meno le noppe su quelle però graficamente sono cambiati punti c'è gente è sì mi prendo come una pippa con questo carica vabbè sono morto guarda questa con 23 bravo fallo fuori eh era già con 20 temi ho fatto fuori ci ho messo troppo a tirar giù quello lì occhio Matilde è tosto Matilde fa poco danno ma è tosto non ti metti di culo non ti metti di culo mettiti frontale perca ho sbagliato eh ciao eh no ma di culo così ti sì sì era prevedibile di culo si è debole ma adesso guardiamo uscire la partita ma questo hai visto questo è in acqua ciao c'è uno in acqua ma dei nostri o dei loro sì sì dei nostri c'è uno sopra che non riesce a spararli 4 a 4 eh ancora fermo adesso gli spara è andato in acqua anche lui si è rotto si è distrutto ti è distrutto da solo perché è andato giù un po' ma te hai in mente di farti una linea in mente di oppure giochi così qua? non so giocherò così intanto te invece fai il clan no io il clan no però sto portando avanti un po' di carretti bellini tipo c'è il cacciacari che è svedese che è quello diciamo nuovo tra virgolette che secondo me è caruccio ma comunque le due linee che ho fatto di più di tutti sono state tedesche e americane gli inglesi quasi niente ah non c'è solo quello non ti piacciono gli inglesi detto no perché gli inglesi sono lentissimi c'hanno tanti cari che fanno 20 km orari massimi e poi sconfitta anche stavolta eh sconfitta sconfitta vabbè ma se a livello basso tu vinca tu ver non è che ti dà più di tanto sì ti dà gli sti cibondi più o meno vabbè io rivado con il premium così prendo due soldini in più pensiamo a quello vedi PSARC ARC è carino PSARC stanno facendo un bel lavoro vedo mi sembrano più che altro c'è pochi craft da un certo punto di vista vedo c'ho certe cose mi sembra dopo posso sbagliarmi se no ho certi tipi di craft meno dal come si ma tipo mi sembra quelli come posso dire est no estetici su non mi viene la parola adesso ti dici costruzioni estetiche sono alcune costruzioni estetiche che sono tanto similari almeno ma veramente c'è su PSARC una parte di costruzioni estetiche che però non li sviluppo perché non è che mi interessa si non ti interessa c'è della roba in bambù c'è della roba in marmo c'è quella cosina eh cioè io faccio solo pietra perché di pietra ce ne ho vagonate poi non c'è solo pietra andiamo in città andiamo siamo contro i quattro perché bisogna utilizzare i gold capito bisogna spendere anche a livello 3 questo lo mi butta forestale dai giro giro ah c'è la bandiera bianca nel mezzo bisogna conquistarla conquistarla tutto chiaro perfetto ma perché devo sempre li va da solo tutte le volte vado in un posto troppo veloce tutti gli altri vado dall'altra parte mentre vado a te gli riesce una sola però dovremmi sciuttare banzai mi sta tofando uno l'ho seccato grande e però mi hanno cingolato maledetta grande che è stato? mi ha salvato la buccia mi ha salvato la buccia e sto no mi sto rilasciando mi sto rilasciando eh ho fatto un'aggressione io da pro un'aggressione cattiva matilda matilda eh però ce l'ho tutta addosso niente ha preso ha preso l'artiglieria allora Radio Gamer domanda ogni quanto la live di Watt e ti devo dire la verità non lo so perché ho improvviso sempre tipo 5 minuti prima comunque se vuoi giocare insieme a noi non ci sono problemi non mi faccio problema basta non fa casino urla sbraità tranquilli si gioca tranquilli non ci sono problemi sono morto vabbè io da morto sono morto però mi è piaciuta la mia aggressione io non ti ho visto perché anche perché io ieri e ieri l'altro mi sembra l'ho provato Waddle Tank e avevo dei problemi di connessione e mi ha crashato un paio di volte infatti anche ieri ho cominciato con con questo gioco qui poi sono passato ad un altro perché non mi ha crashato cioè mi ho proprio buttato fuori dalla live proprio in internet quindi bisogna vedere anche la giornata buona che è successo una mosca fastidiosa poverino 11 a 14 vai che prendiamo pure questo probabile c'è rimasto il tedesco qua che è forte sto carretto qua a pari livello è una bestia sono in tanti si non gliela fa l'ha eliminato il colpo si perché fa tre se non mi sbaglio fa tre cinquanta il cannone nel livello basso è un danno mostruoso visto non è secca non è secca appena sono sotto si infatti io ce l'ho stavola lei te lo consiglierei dato che te c'è di due letti bassi questo qui per inizia è divertirsi carino è un livello 4 quindi non ti devi fare tanti livelli il caduccio cos'è ah ecco l'azza che gliela fa se non lo becca l'artiglieria mamma mamma no eh non non lo becca l'artiglieria così però gli fa cento non gli fa l'artiglieria è stato fermo ciò che farò voglio controllare il danno perché non non me lo ricordo non voglio dire magari io 350 è una grossa cosa è bello ma dopo un po' scoccio quindi avevo disinstallato ma avevo il t34 russo se guarda questo gioco qua secondo me è spettacolare il problema è che l'ho disinstallato più volte questo gioco qua perché è pay to win fondamentalmente a me questo mi dà particolarmente noia perché con i gold che compri con i carri premium e tutto sei ma molto avvantaggiato quindi a me siccome non uso perché sennò poi alla fine ci spendi 100 ore al mese su questo gioco qua lascio perdere lascio perdere tutto quindi comunque chi non ha un acconto premium chi non usa i gold e chi non usa i carri premium è diciamo penalizzato tantissimo su questo gioco qua fondamentalmente poi io non sono uno di quelli bravi quindi ci si mette sopra anche questa cosa qui vai ripariamola sì unità unità tattica allora vai sì ci sono ci sono ma io infatti sto facendo il medio lo skoda sono arrivato al livello 6 che è lo skoda t24 e siccome lo vedo sempre lo vedo sempre diciamo in partito sicuramente è buono poi a me serviva un medio anche per fare le missioni del del cacciacarri del cacciacarri premium che ti danno il TH28 o meglio come si chiama bisogna fare quelle 15 missioni che poi l'ultima missione ti danno anche il soldato donna e ha detto lo voglio fuori perché mi serve un medio e poi lo vedo sempre in gioco ho preso il t24 poi io ho guardato in gioco erano il t40 lo skoda t40 ho detto ma mi fai andare a vedere praticamente lo skoda t40 è il premium e fa esattamente il doppio del danno di quello normale e c'è anche più penetrazione quindi cioè non è che dici prendi un premium magari fai 20 punti di danno in più 30 no 100 100 punti di danno in più fa è tanto quindi immaginate questo ai livelli 8 9 10 e poi un livello 8 costa che si deve prendere un livello 8 premium un livello 10 premium costa io vedo della roba anche a 40 euro si spara no 40 50 ma siamo matti si alessandro si se ne sono dietro io devo spendere 50 euro per avere un carro uno ma se c'è da un ghiaccio ok poi ho anche provato a fare l'acconto premio per cinque mesi sei mesi se hai detto voglio provare e fai un'altra vita però ti fai sei mesi di acconto su 60 euro con 60 euro sostiene quanti c'erri di accanto spesso di accanto dopo se uno ovviamente che cazzo mi viene addosso che cazzo mi viene addosso va indietro di colpo che c'è sono e sparo due colpi consecutivi e faccio 40 e non cadono era show na sta partita mi fa l'idea era show na se mi sta attento perchè c'è qualcuno dietro quanti non è già seccato adesso alessandro è un po' più in fondo dove eri te prima ma quanto fai di velocità? 40 no ma nemmeno tanto lento che cazzo è che mi tira eh quelli due sono in due eh non ce l'ho riparo cingolino qua ne ho visti due cecchini laggiù in fondo che manna anche cingolata a culo proprio occhio occhio girati di là a sinistra a sinistra io sono tutti di qua di là eh ma quella ti sta eeeh questa ti sta mirando vai eccola eccola bravo ok l'acqua ok l'acqua ok l'acqua porca l'acqua di merda non l'ho vista stavo mirando ma il sommergibile sommergibile non mi prenderete mai più che pirla non l'ho vista piuttosto che mi uccide sono come il kamikaze meglio morire affondato è negato eh anche questa è bella persa eh ok il matilda fa due colpi il buono del matilda che è ben corazzato non leva tantissimo ma è anche veloce a sparare mi sembra si vabbè ma a livello basso più o meno tutti sono veloci eh non ci hanno tempo lungo di ricarica però a me non piace perchè fa 20 km orari è lento no a me almeno il carinetto la corazza compensa col si però a pori livello se ti mette quei cinque già subisci eh beh è ovvio perchè dovrebbero metterle tutti al stesso livello eh ma poi dopo uno se non usi gold hai capito allora lo fanno per quello ah eh niente ho tre partite diverse su tre tanto io uso sempre lo stesso però mi sono preso due medagliette dai così skill anche un pochino i soldati qua americani anche se non è che ci abbia grande bisogno in realtà però insomma si riesce a prendere si riesce a ritrovare il l'account vecchio ma se riesco a ritrovarlo delle belle partitelle con i livelli 8 ci vengono tanto fino a livello 7 diciamo no anche se perdi non perdi niente a livello 8 perdi qualcosina se proprio fai pochi danni ma è giocabile ma io a sto giro seguo lei una data che te sei lento io ti consiglio di andare e te li spotta guarda facciamo un bel gioco di scuola di andare a cagare vieni 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 qua in collinetta vieni qua io ti consiglio di scuola che però è 40 metriali inserisci con quella di entrerci mhm 40 metriali non è tu dove è andato lei nooo si è incantato il che successo non mi va più non mi va più avanti che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo è avanti imbecilo e non avanti cretile ma avanti, dai, adesso la tastiera si è incantata vieni la tastiera nuova venga mi segua un po' c'è già troppa gente lassù però aiuto quindi te ti metti qua, su quel c'è spuglietto lì così sei un po' nascosto e tutta la gente che spunta fuori a mirino chiuso dai cerchi di beccato vedi qua dove sono io ah ok vedi che vado a sputtare infatti vabbè ci sono già altre gente, qualche sport ecco cazzo cazzo tre artiglierie, minchia ma che cazzo non è questo va, mi stanno prendendo tutto è imbecil hai colpito qualcuno te uno eh già buono via d'artiglierie c'ho un punto vita tre punti no tre punti vita quattro quattro a tre eh se si perde anche questa è molto urda perchè l'artiglieria è stata svignata perchè sto arrivando io tutta paura stanno tutta paura ah io invece mi ha preso l'artiglieria ma aspettavo tutta paura e lui tutto tranquillo full vita dai attacca attacca che siamo 9 a 4 vai vai in base fai fuori l'artiglieria se ti riesce tutti intanto ci sono già due in base hai vinto eh ben che hai salito fai 10 all'ora che sono morto però è il momento da attaccare adesso che sennò fuori fuori tutti gli altri non ti ribaltare perchè che siete arrivati resti ribaltato scoppi anche in mover no ma io sto seguendo uno che non non sei meno visto ah no sparagli ammazzali cattivo cattivo questo gioco deve essere cattivo cattivo morto morto nell'isla o di pensate che su netflix in Brasile c'è tutta la serie su netflix in italia è non uscita. Esatto. Oh, vinta. Vinta. Un po' che ha fatto due danno fra me e te? Beh, te sicuramente. Ma non è detto, perché? Si è te scecchinato bene. Allora, io ho fatto... 112. Eh, 86. Ho sparato un colpo. Leggermente. Vai in risparmio, via. Vado a risparmio. Però ho preso Fortunato. Bravo. Grazie per l'iscrizione. Vedi che i livelli 3 attirano? Chi è? E non si vede, si vede male. Mannaggia. Palonsky. Palonsky99. Grazie. C'è da cambiare lo sfondo della scritta? Perché no? Nera sul sfondo. È nero sul nero. Si vede bene? Si vede bene. Sempre con i tre. Oggi è giornata dei tre. Non ne ho altri cosa ti metto. Te devi lavorare. Te devi giocarci almeno 12 ore al giorno. 12 ore al giorno. 12 ore al giorno. Così? Il problema è anche quello. Il problema è anche quello. Siamo conti qua, to? E qui siamo anche nella parte dove non... Ci ho giocato credo due volte da questo lato. 3. Non ti piace? No. Poi ho capito. Se mi dai un cacciacarri magari mi posiziono e me la sbrigo con un leggeretto. Io qui, Ibu. Allora, te... Fai una cosa. Siamo di qua. Siamo di qua. Ti metti sul bordo lì. Quindi... O sul bordo qui o dietro la roccetta. Vedi che lì è un pochino più rialzata. L'ho sopra. Io vado avanti a spottarlo. Vedi che c'è il bordino. Ah no. Oppure dietro la roccetta. Dove ti torna meglio. Io vado qui, te li spotto. Se non mi fanno secco subito. Io qui di qui non posso andare. Quindi... Si spotta bene. Altrimenti ciunghia. Ecco, lui è andato avanti. No, me la rischio pure io. Guarda che devo andare avanti. Ecco, ecco. Guarda, 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 guarda. Ce n'è due. La fai? Se non ce la fai, avanti 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 avanti. Alla fine. Questa è lontana. Questa è lontana. Questa di merda. Via. A regare, a regare. C'era vai a prenderli. No, devo avanzare Eh, io qui non mi posso male, sennò mi beccano Però dovrebbero avanzare loro C'è un caccia-carry Caccia-carry Oh, che è leggero Buono Credo che ce n'è un altro con poca vita e forse ce n'è un altro full video C'è uno di là a destra La mia a destra Ah, ecco, l'ho fatto fuori Ok, stanno avanzando, avanza pure te Sennò non riesci Vai, qui dovrebbe essere No, non ho preso Vai, vinta Vinta Tanto Riuscire a fare il lavoro dello spottino Non ci riesco mai Non ti piace? No, a parte che non mi piace C'è sempre qualcuno più avanti Spottino Che sta avanti a me Più spottino di te Sì, c'è sempre Arrivava prima di me E io Arrivo sempre secondo Poi di volte penso di spottare Invece non sto spottando Sto spottando un altro Vai, zero danni Sono bravissimo Zero? È zero Perché non ci arrivava da un punto Dopo Ho sparato L'hanno distrutto in un secondo prima Quindi Io non l'ho fatto No, io ho fatto qualcosina Spottati Però sono due E anche te non hai ucciso nessuno No, io però Ho sparato un po' di colpetti Ho fatto poco Perché Stando spottato Non è che potevo fare Pensavo di spottare Nel poliviu Però Due sole alla fine Pensavo almeno Tre o quattro Che poi con il premium Con il caro premium Guadagni anche più Più soldi Ma se Se col caro Ripaso Sì Quindi Se proprio Uno ci deve spendere soldi Meglio che l'account premium Secondo me È il caro Allora piuttosto Perché l'account premium Una volta che è passato il mese Ciao Tu abbia fatto tanto Tu abbia fatto poco Almeno il caro ti resta Solo che Se per un livello 8 Con le 50 euro Ma anche no Un po' troppo Allora qui Perché l'auto si va Ma no Ma c'è la bandieretta Nel Mense Dobbiamo andare per il mare Sì Andiamo a fare Il 4 salti in padella Guardi 4 salti Ai ricci di mare Poi io vado dritto per dritto Perché È un punto che Inizia strano Perché conquista La bandieretta La bandieretta Vedete Non so Manco io Io Vado a buste Alla Dove Quando miri uno dei tuoi Uno dei tuoi Uno dei tuoi E' ottimo Perché poi quando Prendi per sbaglio qualcuno Allora fai 5500 danni Quando prendi uno dei tuoi Corretto Corretto Andiamo Andiamo Dove è lei signor Alessandro Eh sono Dietro Il montagno Dietro dove sei te A lato Livello tuo ma E fammi Leva Si 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 fa Prendere Al panico L'albero Lì Che non mi fa Vedere Il bersaglio Ecco Cingolaro Comunque a me Sto carretto Qua Non mi garba C'ha quei due colpetti Pim Pim Non ti garba No Beh allora Preferisco quello tedesco Che c'ho il mitragliatorino Che ne spara tante Di colpetti E io sono morto Sta anche conquistando La base Sì Che è quella Sì Vedi che c'è la striscia bianca Sì sì Vedo Vedo Perché questa la conquista Stai stai dentro E Comunque ti dovrebbe dare Dei punti buoni Tiragli Vai Sette secondi Sette secondi Tre Due Uno Zero Conquistato Mi cingolano sempre Naturalmente non uso di paraccingoli livello 3 Perché non sono a gratis La gratis Vai Zero danni Come al solito 164 danni Yeah 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 Di euro Dov'è Eccolo Cambiato Sì Per sport C'ho ben 60.000 monete D'argento 60.000 Sì Tante Sono tante Tanti tanti Fai conto che un livello 10 costa 6 milioni Eh Sono tantissime Allora Ti bastano Eh Ci fanno anche l'ascolto Ci fanno anche la tua radio Anzi Te la tolgono Certo anche 6 milioni Il livello 10 6 milioni e mezzo Tra 6 milioni di anni Arrivi No ma No ma Reali Pro Devi rifarti tutte le ore che hai fatto una volta Guarda io qua se volete Sono curioso Ho visto che lì ne ho messo anche dei tagli della neve sul carro Prima non c'era Sei più veloce di me Sì Volevo spingere Guarda Stai volando Stai volando Se non va più veloce Scendo E' in discesa Perdo velocità Sì Magagino Poi mi dà La casa è sempre nel momento buono Il pezzo dell'emenda Niente mi ammazzo Adesso mi ammazzano anche me Pizzato 1C contro Pizzato 1C Attualmente muoio io Ma te è proprio Viso Eh sono in 3-4 Eh ciao Eh ma l'ho vista il nascosto Eh no ma ero dietro la roccia ma ce n'erano davanti e dietro Se non venivo abbattuto da quello non c'era un altro Eh mi ha giusto tanto a sto giro Ho fatto faccia a faccia con uno C'era troppa gente L'ho amato 2-4 Questa mi sa che Ma te Cioè i carri Tanto qualcuno l'hai provato Che ci vi racconta quello vecchio No Come qua No quello vecchio Non sono riuscito a entrare Ma dico Comunque qualche caro l'hai provato Sì ne ho provati da quelli più pesanti O quelli Qual è quello che ti torna un pochino meglio Beh Di solito Quelli veloci Che eviti tutto Leggeri allora Leggeri Oppure Quelli un po' pesanti Che subisci tanto E fai il tank Tipo Leggeri Allora Leggeri Sono francesi Cioè hanno una bella linea leggera E sono veloci Molto veloci Sì Perché i francesi Sono veloci Ci hanno Il cannone Con 4 colpi 4 o 6 colpi E Spottano Naturalmente Perché te con il leggero Devi spottare Però Per esempio Se ti torni un pesante Uno contro uno Giri intorno Fai la mira automatica Giri intorno E lui col cannone Non riesce a mirarti Mira E i francesi Ci hanno Ci ho qualcosa Di Leggero Francese Sempre c'ho l'8 E il 9 Addirittura Ah però E sto cercando Di fare un altro Livello 8 Che però È sempre Eco francese Con I caricatori Da 6 colpi Però è pesante Ah è più pesante Sì Però Però capisci Che con 6 colpi Sono tanti 6 colpi in canna Che spalli Fino a batti Come niente Eh E poi dopo C'è una ricarica Mi sembra 50 secondi Però Con 4 Non ce la fai Perché con 4 Metti uno Lo sdinga Capito Uno Uno Non penetra Uno Lo sbagli Te ne rimani 3 Con il treno Lo tiri giù Sì Te ne servono Dei 4 E i 6 colpi Sì Ti servono Almeno 5 colpi E uno Lo sbagli Per essere sicuro Sì Con 4 Sei a rischio Con 4 Io ho anche un 10 Che è americano Che ha 4 colpi E ricarica Non ce la fai Che sarebbe pesante Che però Non è corazzato È un Non ci gioco Perché Vai male Ma tutta la linea Lo sofferta In realtà Ne ha 4 colpi Anche perché Di 4 colpi Se uno non ti entra Sei fregato E girando Intorno Capita Che un colpo Non entra Esce con 6 Sei tranquillo Poi dopo Cosa fai Con quell'altro Ricarichi E quello Ti fa fuori Poi vabbè Sarebbero Carri Da giocare In una maniera Che te Fai un attacco Rapido Spari i colpi E te ne vai Non ho neanche saputo Un po' giocare Eh sì Per forza Dai c'ho Il c'ho Praticamente Non so se te lo vedi C'ho questo qua Che è il T57 Che è l'americano 10 Lui c'ha 4 colpi C'ha 4 colpi C'ha 4 colpi E fa 400 colpo Che non è male Però te considera che Un livello di acid C'ha Di punti vita C'è un bel po' C'ha più di 2000 Eh sì E' 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 E'